Egitto, Stati Uniti, finito il tempo delle vacche grasse, Washington annuncia il taglio degli aiuti al Cairo, in particolare degli aiuti militari. All'origine della decisione non soltanto la necessità di riquadrare i conti delle casse americane, ma soprattutto la speranza, finora disattesa, di progressi credibili verso un governo democraticamente eletto. Il Presidente è stato chiaro, non possiamo assicurare certe spese e non procederemo la fornitura di determinati sistemi militari, ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Kearney. La sospensione riguarderà le forniture di ricotteria PASH, di caccia F-16, di carri armati. Sin dalla destituzione di Morsi, il 3 luglio, Washington aveva interrotto l'invio di armi pesanti. Ogni anno negli Stati Uniti versano all'Egitto oltre un miliardo e mezzo di dollari, di cui un miliardo e tre all'esercito. I 250 milioni di aiuti economici restano assicurati.